Tutti insieme oggi con i Guappe Cartò in un grande concerto nella Sala Musica del Museo della Pace insieme a Pino Daniele e Enrico Caruso ai Grandi, oggi grandi protagonisti Guappe Cartò, direttamente da Parigi. Totem della Pace, Museo della Pace, oggi 16 gennaio, appuntamento importante al museo con i Guappe Cartò che presentano il loro ultimo lavoro. Pierluigi. Sambol, amore migrante, una grande storia, un bel concerto. Vi aspettiamo, venite numerosi. In diretta? Eh, non lo so, sono in diretta. Se riesci a vedere questo messaggio prima del concerto, venite, se non venite a un altro concerto. Ci sarà la diretta comunque. Per la pace. Tanti brani nuovi, tanti brani nuovi per la pace. Viva i Guappe Cartò.